Giornate di lavoro per gli uomini dell'arma sul territorio bresciano e bergamasco. A Carpenedolo una segnalazione della presenza di due piantine di marijuana fatta per venire da un cittadino e carabinieri della locale stazione è servita ad attivare servizi e fonti informative. L'attenzione dei militari si è subito concentrata su un 30 settenne del posto già noto alle forze dell'ordine. Nella serata di questo mercoledì 30 settembre i carabinieri di Carpenedolo hanno allora fermato il giovane a bordo della sua autovettura per un controllo di routine. Le perquisizioni effettuate hanno portato al rinvenimento al sequestro presso la sua abitazione di circa 200 gammi di marijuana ad uso personale per la vendita. Il trentenne è stato dunque posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione fino alla mattinata odierna quando il giudice del tribunale ha convalidato il suo arresto disponendolo nuovamente agli arresti domiciliari. Sempre in territorio bresciano i carabinieri di Bergamo, sempre nella serata di mercoledì 30 settembre, hanno arrestato un uomo di 57 anni originario del milanese ma residente da anni a Villongo con numerosi precedenti tra cui estorsione, furto, rapine e ricettazione che deve scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione per atti contro il patrimonio e che dopo la condanna era sparito per quasi un anno. A Palazzolo sull'Oglio i militari del nucleo operativo e radiomobile di Bergamo che erano sulle tracce dell'uomo già da diverso tempo sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo dopo un lungo pedinamento mentre alla guida di un'utilitaria. Colto di sorpresa dall'intervento dei militari, l'uomo ha provato a scappare tentando una spericolata fuga a bordo della propria autovettura venendo infine bloccato e posto in sicurezza. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato sottoposto all'ordine di carcerazione per i numerosi reati contro il patrimonio e contestualmente arrestato per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Controlli, inseguimenti ma anche prevenzione, sicuri per la tua sicurezza è l'iniziativa che il settore assicurativo attraverso la Fondazione Ania sta portando avanti in favore dei carabinieri. Così è stata avviata una campagna di test sierologici 35.000 destinati ai militari dell'arma di tutta Italia schierati sulle strade a supporto della popolazione durante le varie fasi dell'allarme legato al coronavirus. L'iniziativa in questi giorni coinvolgerà i militari dell'arma Lombardi con gli screening in corso di svolgimento al Comando Provinciale di Brescia e al Comando Legione con sedia Milano.